Siamo ritornati Ma è vero, c'è proprio quell'albero che mi dà fastidio Fa niente? No, non lo so, ma non troppo tra leppen kertas No, 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 no... Non voglio cucinare. Ah, perché mi devo ritrovare questa situazione? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma è lei allora? No, un'altra di Castiglioni. Adesso è vero tutta. Io mi chiamo Serena Anni di Infanzo. Tutta perfetta. Ah, te l'ho detto mille volte! William, di cognome? Elvi! Elvi! Sì! Elvi! Si può andare a chiamare Elvi. Qua è l'amore? Ecco, è l'amore. E' l'amore. E' l'amore. E' l'amore. E' l'amore. Così? Con la quale si può fare. E' l'amore. E' l'amore. Ma cosa è, papà? Aiuto! No, non so se ci sta niente. No, porta di rilasciare. Dove è la mia prospetta? Sì. Dove è la tua sorella? Ah, non lo so. Così? Come lo sai? È un caldo davvero inclinato. È così. È sofferta. E' l'amore ancora fatta? No, no. Se ci sta niente...